Ancora a far west in centro storico, passata la tregua per la perdonanza, ancora due risse in pieno centro tra giovanissimi. Un pestaggio al parco del castello, un altro regolamento di conti alla villa comunale, ad intervenire in entrambi i casi la polizia. Nella prima aggressione al parco del castello un giovane marocchino di 20 anni è stato picchiato da altri stranieri che volevano derubarlo di 400 euro. Tutto questo al parco appunto, vicino al bar, tra gli sguardi attoniti dei passanti. Il secondo episodio invece alla villa comunale, sempre tra nord-africani, probabilmente il secondo round, ma avrebbero partecipato anche alcuni ragazzi del posto. L'attività d'indagine dopo un primo intervento delle volanti è curata dalla mobile. Secondo le prime informazioni, i responsabili già sarebbero stati individuati per quel che riguarda il pestaggio al marocchino. Si tratterebbe di persone già noti alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di droga. Ormai in centro le risse sono all'ordine del giorno. Sarebbero bande che si contendono le piazze dello spaccio in maniera violenta. Le zone più a rischio al momento sono tra la villa e il castello. Vengono rubati soldi, ma anche catenine d'oro e ciondoli vengono portati poi fuori città per essere rivenduti. C'è molta preoccupazione. Anche al terminal di Colle Maggio continuano a esserci episodi anomali. Tant'è che è presente sempre una pattuglia di carabinieri o di polizia con il posto fisso della polizia municipale. Movimenti strani che sono stati notati anche dai turisti che in questi giorni hanno affollato il magaparcheggio per prendere la navetta per il centro. Di certo è una situazione che lascia perplessi in una città che è sempre stata definita tranquilla. Spaccio che avviene anche in alcuni palazzi distrutti ancora della zona rossa, con i residenti che più volte hanno segnalato l'accaduto.